Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio far vedere questo kit della Polly Pocket che è una piscina, appunto, un kit insomma per giocare insieme con le nostre bambole. È naturalmente un kit della Mattel e prima di iniziare a giocare insieme ci serve un po' di acqua che metteremo quindi nella nostra piscina qui in basso. E poi ce ne serve un pochino anche qua in alto. Ecco qua. E ora direi che possiamo partire. Abbiamo quindi prima di tutto una specie di liana, vedete questa verde e vi faccio vedere come funziona ora. Vedete? È davvero carino, è come se ci fosse quasi una corda che ci porta, quindi un meccanismo che porta la nostra Polly Pocket direttamente in acqua, vedete? È un po' come una... Come quei percorsi sugli alberi, tipo Jungle Park. E vedete come appunto con questa rotella che è agganciata, la nostra Polly Pocket può scorrere direttamente e cadere nell'acqua. E vedete, il momento in cui tocca l'acqua calda, cambia anche il colore dei capelli. E poi c'è anche un'altra possibilità, infatti c'è un altro meccanismo qui più in basso e semplicemente alzando la liana. Non ha funzionato ora. Vabbè, lo faccio scendere così a mano, ma comunque ci sarebbe anche questo scivolo che permette al nostro piccolo animaletto che sta sulla foglia di palma di scivolare così anch'esso in acqua. E poi abbiamo un'altra alternativa che invece è qui dove c'è la palma, quindi vedete sul lato sinistro. E nel momento in cui questo cade verso il basso, gira così ed esce direttamente. E poi, vedete, c'è anche questa piccola specie di liana viola. Possiamo ancora riprovare, quindi metto ancora un pochino di acqua e naturalmente proviamo ancora con la nostra polli per farla scendere direttamente in piscina. Zoom un pochino così che possiamo vedere meglio e via! Ecco qua, se la liana della scivolo è in alto, la nostra polli pocket non può scendere. Quindi ora riproviamo ed ecco qua la nostra polli che scende direttamente in acqua. Ecco qua, questo era il mio video. Spero che vi sia piaciuto. Naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete quindi qui sotto nei commenti e naturalmente ci vediamo la prossima volta. Ciao!